Io volevo precisare, quando ho detto che il Comune non paga TPL non mi riferisco al servizio, questo hai perfettamente ragione, ma come hai detto tu c'è un contenzioso che si trascina negli anni, il famoso lodo TPL. Sul contenzioso io condivido anche l'interpretazione che dai tu, però il problema è che avete perso in tribunale, quindi quello è a questo punto un credito che voi dovete saldare e si tratta di una cifra di 100 milioni, ora cade calmi, quindi è chiaro che un'azienda che comunque visto riconosciuto un credito non lo tiene, è chiaro che non è in condizioni di gestire bene il servizio, in ogni caso il grafico che abbiamo visto prima ci fa vedere che l'uscita dai depositi è migliore di Roma di TPL, il 6% di guasto rispetto al 15% dell'Avac, però voglio porti anche un'altra domanda, il TPL ormai è finito il contratto, scade a fine anno, voi state facendo la gara per il rinnovo di questo servizio, a me colpisce un fatto, Roma di TPL oggi si gestisce 27 milioni di chilometri di vetture, voi avete fatto un capitolato di gara per 40 milioni di chilometri di vetture, quindi state dicendo che, un avviso sì, beh è un avviso, cioè state dicendo che metterete a gara più di quello che oggi gestisce, ma come si fa? Allora significa che questo servizio che mettete a gara lo togliete dall'Atac, quindi significa che voi siete d'accordo con le gare, allora perché poi l'amministrazione si dice fermamente contraria alle gare mentre di sotterfugio le sta facendo e in modo anche rilevante, aumentando di quasi il 50% del servizio TPL? Finisco su un punto, la questione della politica e io aggiungerei anche del sindacato, è decisiva, quando io dico separiamo la produzione dal servizio, ricostituiamo un'azienda pubblica che si occupa solo del servizio e la produzione la affidiamo in concorrenza a un'attività industriale e privati, quello costringe tutti a fare il proprio mestiere perché a quel punto i sindacalisti se la dovranno vedere con un privato, con il contratto di lavoro, la pianteranno di fare quello che fanno oggi, cioè il consociativismo quotidiano con i dirigenti che fa molto male a quell'azienda e anche la politica non farà più, non potrà più fare la gestione quotidiana perché si occupa anche la politica troppo delle attività interne all'azienda che non dovrebbero riguardarle e a quel punto la politica si dovrà impegnare sugli obiettivi, sulla programmazione, sull'equilibrio tra risorse e costi e quindi solo con una liberalizzazione che ricostituisce la funzione pubblica e affida al privato l'attività industriale, noi costringiamo il sindacato a fare il suo mestiere e la politica a svolgere la funzione di programmazione che lei è propria.